Quali sono le regole per tenersi un amante? Le regole base per tenersi un amante sono le seguenti. Intanto, se hai scelto di vivere una relazione fedigrafa e concubina, non devi cercare di trasformarla in una relazione istituzionale. Quindi non devi insistere affinché il tuo amante o la tua amante diventi tuo marito o tua moglie e quindi che lasci il proprio consorte o la propria consorte. Questa è la prima regola, perché se una persona cerca una relazione extracognugale, lo fa per esigenze trasgressive, non per esigenze istituzionali. E nel momento in cui tu vuoi rendere istituzionali esigenze trasgressive, verrai al 90% lasciato. La seconda regola è quella di non insistere per avere richiesta di attenzioni, di vedere frequentemente questa persona. Una relazione extracognugale, una relazione fedigrafa, deve essere basata essenzialmente sul piacere e sulla libertà di vedere l'altra persona. Quindi diventare troppo ossessivi è sbagliatissimo, perché è anche qua lontana. La terza regola fondamentale è quella di non essere gelosi del partner ufficiale o di eventuali altri partner, perché deve essere una relazione vissuta all'insegna della libertà. Ciò non vuol dire che non devi entrare in intimità, ascoltare l'altra persona oppure farti ascoltare. Diciamo che questo tipo di relazione tra i pilastri che prevedono in generale le relazioni sentimentali manca di impegno e può mancare anche di intimità, cioè nel senso di entrare molto in contatto intimo con l'altra persona. Però l'intimità può essere anche invece ben accetta e anzi può dare un qualcosa di più alla relazione. Nasce così anche una relazione romantica, ma la parte che deve essere viva è la parte passionale. Quindi l'altra regola, la quarta regola fondamentale è quella di non far mai mancare la parte passionale. Per non far mai mancare la parte passionale devi viverti piacevolmente una trasgressione, deve essere una relazione basata sulla gioia fondamentalmente, sul piacere di vedersi, ma non deve assolutamente cadere nell'ossessività. Nel momento in cui una relazione con un amante diventa una relazione ossessiva, si diventa gelosi, si diventa possessivi e si vuole trasformare in una relazione istituzionale, né si decreta il funerale, né si decreta la morte. Se segui queste regole fondamentali potrai tranquillamente mantenere viva la tua relazione extraconiugale. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao!